carissimi amici buongiorno a tutti innanzitutto è la prima cosa oggi sto lavorando come tutti questi giorni un po sulla scelta di tutto ciò che il materiale fotografico buongiorno intanto a dirvi la verità c'è veramente una grande scelta da poter fare su tutto ciò che è stato poi il lavoro fotografico che è stato fatto con rosalinda devo dire la verità veramente le foto sono molto belle buongiorno rosa buongiorno a tutti quanti voi e vi faccio vedere una piccola anteprima della mia difficoltà dove sta così ecco giusto per togliervi qualche piccolo diciamo dubbio no perché ognuno mi scrive quando uscirà quando non uscirà la difficoltà sta nel selezionare queste foto perché veramente ci sono tante tantissime foto belle vi faccio vedere una piccola anteprima di rosalinda va bene un attimo solo eccola vedete dove sta la difficoltà la difficoltà sta qui guardate qua che cosa c'è eh ditemi la verità ho veramente tantissima difficoltà perché comunque è venuto fuori lavoro meraviglioso guardate qua foto questi sono gli scatti macchina attenzione qui non è stato fatto niente sono dei jpeg quindi vediamo proprio quello che è uscito quel giorno ecco vedete che cosa c'è e c'è sicuramente un qualcosa che che da urlo veramente qualcosa di impressionante vabbè rosalinda è quello che è perché vedete gli è piaciuto molto lavorare con noi sono molto contento che lei abbia dato questa performance veramente da bravissima professionista una ragazza semplice solare allo stesso momento lavorativamente anche una bravissima professionista quindi vi ho fatto vedere in anteprima un qualcosa che poi vedrete eh sia sui poster e sia come lavoro fotografico ma ecco è questa l'immagine che stiamo dando alla nostra amatissima rosi va bene ci tenevo a farvi vedere un'anteprima perché così le persone che stanno attendendo molto questi scatti eh sono tranquilli sono sicuramente più rilassate perché c'è grande fermento per questa collezione collezione impero fotografate che vi faccio vedere ancora qualche scatto giusto eccolo qui giriamo la camera eccoci perché comunque tutti quanti stanno chiedendo gli scatti gli scatti gli scatti usciranno vedete si sono sempre scatti jpeg di quello che abbiamo fatto guardate qua spettacolo e là guardate qui una dea no sono veramente molto soddisfatto perché è uscito fuori un bellissimo lavoro e questi vabbè sono vedete gli scatti prova di quello che abbiamo fatto quel giorno faccio vedere un po questo qua zoomato basta semplicemente zoomare eccolo qui lo spettacolo allora io continuo il mio lavoro sto selezionando le foto e così poi a breve avremo tutte le preview del nuovo lavoro fatto con rosalinda vi auguro una buonissima giornata a tutti e vi mando un caloroso abbraccio ciao dalla maison impero tour grazie a tutti tabs